Tornando su EnvyMet, meglio su Spaces in questo caso, vediamo come è possibile disegnare a mano gli elementi principali del modello. Partiamo dal disegnare il terreno, che è la parte ovviamente più bassa del modello e quindi è quella che va inserita per prima. Per farlo, per prima cosa, come sempre, carichiamo un progetto, in questo caso sempre progetto Roma. Andiamo alla tab DEM, D-A-M, e andiamo semplicemente a inserire un valore, per esempio 4. Trascinando il mouse nell'area di lavoro, cliccando sopra questi quadratini, posso disegnare diverse altezze, per esempio 8, che sono definite da quadratini color pesca che hanno un numerino di riferimento. Questo numerino di riferimento è proprio l'altezza del terreno in quel punto. Andiamo a vedere tutto in 3D cosa abbiamo disegnato. Conveniva però tornare un po' indietro nella griglia e riaprire la finestra 3D. Col tasto CTRL premuto ci muoviamo e andiamo a vedere che abbiamo disegnato alcuni pezzi del terreno di 4 metri, altri di 8 metri. Qui scompaiono i numerini, ma ovviamente si vede che c'è un cambio di altezza. Nella finestra 3D è comunque possibile disegnare, tanto quanto nell'altra finestra 2D. Vedo che il cursore rappresenta l'altezza che ho qui, sull'altezza appunto del terreno laterale. Per esempio ho imposto di nuovo una misura come 10 e vedo che questo parallelepipedo è cresciuto. Io posso cliccare e costruire quindi diversi parallelepipedi a diversa altezza, oppure posso cliccare e trascinare per ottenere un terreno uniforme di forma rettangolare. Col tasto destro vado a cancellare diversi pezzi di questo, oppure vado a cancellare una porzione, come in questo caso. Se vado a sovrapporre a un terreno più alto, uno più basso, questo va a sovrascriverlo, in questa maniera qui. Tornando poi nella visualizzazione bidimensionale otterrò una grafica che mi indica solo appunto le altezze, come abbiamo già visto prima, aggiornate. Quando lavoriamo in 2D, quindi non è possibile creare un rettangolo, ma verrà fatta sempre, diciamo, una costruzione a pennello, un disegno a pennello di questo terreno. Al massimo però possiamo cliccare sul pulsante 2x2 in modo tale da creare quadratini leggermente più grandi. Anche qui con il tasto destro rimuoviamo porzioni del terreno. Se andassimo comunque a inserire altri valori, questi vengono sovrascritti. Esattamente come funzionava in 3D. C'è comunque un limite che apparentemente noi non riusciamo a percepire, ed è quello legato alla suddivisione verticale del modello. Andiamo a vedere su Project. La suddivisione impostata in questo momento è di 2. Vorrà dire che se io andrò a inserire, in questo caso molto semplicemente un valore dispari per il terreno, questo verrà arrotondato alla cifra pari più vicina, in quanto appunto la suddivisione è per 2. Andiamo a vedere questa cosa in 3D. Si capisce molto bene. Andiamo su Open3D View. Proprio adesso che ho inserito, ecco, faccio un valore da 10, ecco così per primo. Diciamo questi sono alti 10. Adesso ne faccio uno da 9. Guarda un po', è ancora da 10. E questo appunto, come vi dicevo prima, è perché il modello viene approssimato al taglio più vicino. Il taglio esattamente sotto, 8, a questo punto, mi produrrà uno scalino, una differenza di livello. Quindi tutto questo mi fa capire che è davvero molto molto importante impostare per bene questi tre valori. Innanzitutto questo, in questo caso, quello della suddivisione dei z in altezza. Ma come faccio quindi a fare, diciamo, un ricalco preciso del terreno che devo verificare? Allora, per l'occasione ho preparato due mappe. Questa qui è la solita piazza del popolo estratta precedentemente con Costas Planet. E quest'altra invece è sovrapponibile, è un taglio, come abbiamo visto nel video precedente, del terreno estratto ad altezza 6 metri. In più ci ho inserito l'ombreggiatura per capire meglio chi era la curva di livello sopra l'altra. Vado quindi a caricarla questa mappa all'interno di Spaces per farlo... zoomiamo un po' indietro... per farlo inserirò appunto su Digitize Select Bitmap. Questa si chiama Curve VMP. Dovrò cancellare tutta l'area che non... diciamo che non mi interessa. Per farlo vado semplicemente su Clare Dem e dovrò ridisegnare piano piano, con tanta pazienza, queste curve. Una cosa prima di iniziare. Il taglio abbiamo detto che è stato effettuato ogni 6 metri. Quindi andiamo subito a impostare il DZ da 6 metri, applichiamo e adesso possiamo cominciare. Questo è il letto del fiume, quindi presuppongo che sia 0. La prima curva di livello avrà quindi valore 6 e con un po'... ecco, questo ho già fatto un errore in quanto cominciavo direttamente con la griglia 2x2. Ecco qua, vado a inserire... E quindi con tantissima pazienza dovrò costruire tutto quanto... tutta quanta la mappa in questa maniera, aggiornando di volta in volta lateralmente il numero dell'altezza in quella posizione e disegnando. potrà capitare però che qualche volta io compia qualche errore. A questo punto vado a cancellare degli elementi con il tasto destro e vedo però che rimane bianco sotto. Per evitare questo posso riaggiornare la mappa con un livello di zoom, cambiando livello di zoom oppure accendendola e spegnendola. Un'ultima nota riguardo alla creazione dei DEM è che questa è possibile solo quando la, diciamo, il modello è in 2,5D, ovvero quando non abbiamo mai cliccato su Convert to the LED design. Questa infatti è una modalità che vedremo in futuro e capiremo perché si dovrà passare dal modello 2,5D a quello 3D e cosa cambia effettivamente all'interno di Spaces. Inoltre anticipo che questa modalità di disegno di ogni elemento all'interno di Spaces, che diventa molto demotivante quando abbiamo a che fare con modelli estremamente grandi, può essere bypassata attraverso l'utilizzo ancora una volta di Grasshopper, trasformando il terreno che avevamo precedentemente estratto da Google Earth nel modello DEM per un file di Spaces di EnvyMet.